good morning si qui sono alle 10 e mezza e come dico in questi casi certo la mattina non una mattinata prestissima una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro semplicemente david lynch it's april 4 2022 and it's a monday here in nipples a literally cloudy morning with also soft wind 55 and 3 and 4 fine at around 13 celsius and this means that non è ecco la giornata si ecco la giornata that day really 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 soft like these days in this period si leggermente più freddo ma comunque clima primaverile per quanto non c'è nel video sui pensieri come sempre nel caso di interesse lo faccio sempre separato da questo video anche se non so se lo faccio oggi perché un video arretrato da caricare ieri e non ho molto da dire oggi anyway i see and you all just see from the window i think that this afternoon temperature will be in the same level ma anche qualche grado e meno che è un po' brutto il tempo cioè si appunto anche un qualche grado e meno but comunque vedremo but non siamo dei maghi su questo but really important thing is that with this atmosphere unfortunately in a negative point surely we aren't going to be enjoying those beautiful blue scars in golden sunshine salvo miracoli ma la vita è impossibile diciamo che ieri da questo punto di vista è stata un po' un'illusione perché invece abbiamo avuto ma a questo punto è stata solo un'eccezione perché i giorni precedenti sono stati 4-5 giorni sempre con la pioggia con il brutto tempo per cui speriamo di non continuare con questo trend di oggi e di giorni scorsi ma vedremo per cui say that this so from the mythical window with the color of the curtain certo non sublime direi bruttissima ma no perché comunque resta l'inquadratura la luce e colori stessi la tenda è comunque questa è comunque sembra un po più bella and it's green roller shooter behind the me on the top not visible in factor in the shot and finally from a mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel the reports un saluto davvero a tutti and I hope you have also è vero è brutto tempo ma spero che ci può consolare questa cosa cioè that you have also a great breakfast everyone il mio stomaco bruntola non so il vostro so ci vediamo al video tutto il giorno nel caso lo faccio o domani